Il fischio, il fischio che determina la fine della gara, ce l'hanno fatta, una grandissima vittoria. Guardate la gioia dell'allenatore, quella dei giocatori e ovviamente quella del pubblico che finalmente può festeggiare. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla gara? Questa squadra dei giocatori di grande qualità con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Un onore per me, saluto e ringrazio il pubblico da casa. Grazie. 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 Grazie.